Oggi abbiamo meno 500.000 dipendenti, abbiamo bisogno di nuove competenze, nella pubblica amministrazione ci sono 195.000 precari, abbiamo bisogno di dare più sicurezza ai nostri operatori, sanitarie non solo. Cambiare e migliorare la pubblica amministrazione, più sicurezza sul lavoro, più assunzione e rinnovo del contratto. Queste le motivazioni che hanno portato le federazioni del pubblico impiego di CGL Cislewil a proclamare lo sciopero della pubblica amministrazione nella giornata di domani. L'astenzione dal lavoro riguarderà i dipendenti della sanità, dell'amministrazione statale e parastatale e delle funzioni locali, sono invece esclusi i dipendenti della pubblica istruzione. CGL Cislewil chiedono al governo di trovare risorse aggiuntive per sottoscrivere un contratto dignitoso per la pubblica amministrazione e soprattutto per ridare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori della pubblica amministrazione. Nel rispetto delle norme dell'emergenza sanitaria per ragioni di sicurezza, in Abruzzo si svolgeranno dei presidi davanti alle prefetture con alcuni rappresentanti delle sigle sindacali. I lavoratori e le lavoratrici, che invece dovranno garantire servizi essenziali durante le ore di lavoro, applicheranno adesivi sulle divise con la scritta «Non mi fermo, ma protesto». Lo sciopero di domani è stato duramente contestato e criticato perché in questo periodo molti dicono che i dipendenti pubblici sono stati gli unici a non soffrire della crisi economica. Confindustria, il governo, eminenti commentatori, tutti ben retribuiti, non tra i più bassi d'Europa, ma tra i più alti nel mondo, vogliono far passare queste lavoratrici e questi lavoratori come fannulloni, ipergarantiti, irresponsabili, disfattisti. È giunta l'ora che ai lavoratori pubblici venga restituita la dignità che meritano. Per questo e per molto altro noi scioperiamo il 9 dicembre.